Ivan De Paoli, se quello che hai in mano è il casco di Orlando Pizzanti, che è un corridore esatto, che della tua squadra si stava allenando con voi in Abruzzo, se ne è parlato tanto anche sulla stampa locale per questo incidente che per fortuna però non ha avuto se non conseguenze superabili. Assolutamente, solo un grandissimo spavento perché è una dinamica piuttosto importante, lui scendeva in discesa, una macchina gli ha attraversato la strada e l'ha praticamente preso in pieno. Il casco ha fatto il suo lavoro e fortunatamente è stato ricoverato in progno riservata ma in realtà non ha subito grosse conseguenze come altri ciclisti. Adesso è tornato a casa, è in Sardegna dopo essere stato dimesso dall'ospedale? Sì, questa mattina è stato dimesso e il primo volo utile è tornato a Cagliari, giustamente ha vissuto per due mesi sull'alto piano delle Rocche e più questi otto giorni in ospedale, adesso era giusto tornare a casa tra il calore e la famiglia. Questo ripropone un po' il tema della sicurezza sulle strade, in questo caso abruzzesi, ma è un discorso che possiamo estendere un po' a tutta la penisola se vogliamo. Sì, assolutamente. Io quando ho scelto la mia terra, ho scelto l'alto piano delle Rocche perché comunque ha un numero di veicoli inferiore rispetto agli altri, ma purtroppo non è calcolo probabilistico, basta una macchina per fare un danno. Il problema secondo me è di cultura stradale, di chi è che porta, me compreso insomma, noi compresi, chi è che porta un veicolo oggi deve fare molta attenzione, deve cercare di distrarsi il meno possibile e pensare che quando guidi una macchina puoi creare dei danni irreversibili o importanti alle persone o comunque ai soggetti più deboli che percorrono la strada. Questo è troppo semplice, magari anche sin troppo retorico, ma un consiglio anche a chi va in bicicletta? Ma è difficile perché anche in questo caso qui io credo che lui non si ricorda, però abbiamo studiato insieme ai carabinieri, le forze dell'ordine che erano intervenuti lì, se vedete il casco è praticamente spaccato sulla parte sinistra, invece lui la macchina l'ha preso sul lato destro praticamente, sicuramente, quindi una dinamica un po' particolare perché significa che si è capovolto con la testa, e lui secondo me ha percepito il pericolo, se ne è accorto che la macchina non dava più la precedenza e ha cercato di evitare la macchina, quindi da parte sua c'era la massima attenzione, quello che possiamo fare è che tutti quanti i ciclisti quando vanno su strada, in prossimità degli incroci, in prossimità magari dei pericoli che la strada propone di magari rallentare, a prescindere e di fare molta attenzione.